Musica Prima ancora che inizi lo spoglio delle schede, ci sono già nove sindaci eletti in Calabria. Essendo gli unici candidati nei loro comuni, è stato sufficiente che si raggiungesse il quorum del 40% dei votanti perché fossero eletti. In provincia di Cosenza, Cellara, dove l'affluenza è stata del 53,1%, è stato eletto Vincenzo Conte. A Panettieri rieletto l'uscente Salvatore Parrotta, l'affluenza è stata del 63,3%. A San Vincenzo La Costa è stato rieletto l'uscente Gregorio Iannotta, qui l'affluenza è stata del 55,49%. Nel Catanzare, Sadisca, sullo Ionio, è stato rieletto l'uscente Vincenzo Mirarchi, l'affluenza è stata del 51,59%. A Settingiano è stato eletto Antonello Formica, l'affluenza al voto è stata del 42,7%. In provincia di Vibo Valencia, a Fabrizia, è stato rieletto l'uscente Francesco Fazio, l'affluenza è stata del 50,29%. Nella regina San Procopio è risultato eletto Francesco Posterino, qui l'affluenza è stata del 43,22%. A Motta San Giovanni è stato rieletto l'uscente Giovanni Verducci, l'affluenza è stata del 43,88%. A Placanica è stato rieletto l'uscente Antonio Candemi, affluenza del 55,53%. In un centro non è stato raggiunto il quorum, si tratta di Carolei, a pochi chilometri da Cosenza, dove c'era un solo candidato a sindaco. Il comune sarà dunque commissariato. Si attesta con all'orizzonte il ballottaggio intorno a una decina di punti di stacco la competizione elettorale per l'elezione del nuovo sindaco di Catanzaro, tra l'avvocato Valerio Donato, sostenuto da una coalizione civica composta da 10 liste, tra cui anche sigle di centrodestra, che sarebbe attestato in una forbice percentuale tra il 40 e il 44%, e Nicola Fiorita, sostenuto da una coalizione di centrosinistra composta da 5 liste, che sarebbe tra il 31 e il 35%. A seguire il presidente dell'ordine degli avvocati del capoluogo, Antonello Tallerico, sostenuto da 5 liste, tra il 13 e il 17%, e l'unica donna ai nastri di partenza candidata a guidare la città, Vandaferro, sostenuta dalla lista di Fratelli d'Italia, bloccata tra il 7 e il 9%. Il dato definitivo relativo all'affluenza registrato alla chiusura di seggi delle elezioni amministrative di Catanzaro è pari al 65,90%. E' pari al 65,90%, il dato definitivo relativo all'affluenza registrato alla chiusura dei seggi delle elezioni amministrative di Catanzaro sono oltre 6 i punti percentuali in meno conteggiati nell'ultima rilevazione, quella delle 23, rispetto alla precedente competizione durante la quale si recò alle urne il 72,45% degli aventi diritto. Un risultato per me positivo, la mia è una proposta civica che è riuscita da sola ad avere l'addizione di tanti e di tanti partiti, ci si aspettava ovviamente qualche sfilacciatura nel voto, perché ovviamente non è facile mettere in campo una proposta civica sulla quale si chiede l'addizione di gruppi e liste di centrosinistra e di centrodestra. Lo ha detto il candidato a sindaco di Catanzaro, Valerio Donato, ai nostri microfoni, commentando i dati dello spoglio delle comunali nel capologo calabrese, dati che lo vedono in testa ma comunque al balottaggio. Professore, come commenta il suo risultato? È un risultato per me positivo, perché come sapete la mia è una proposta civica, è riuscita da sola chiedendo l'addizione di tanti, ho avuto un grande successo nell'addizione di tanti partiti, ci si aspettava ovviamente qualche sfilacciatura nel voto, perché ovviamente non è facile mettere in campo una proposta civica sulla quale si chiede l'addizione di gruppi e liste di centrosinistra e di centrodestra. Abbiamo raggiunto un ottimo risultato che ci fa bene sperare per il ballottaggio, quindi non posso che essere con te. Una sfilacciatura ampia però, quasi 9% qua. Questo poi lo vediamo dopo, diciamo così quanto sarà questa sfilacciatura, però certamente, ripeto, era un ordine di numeri di voti che noi ci attendevamo. Senta, Fiorita commentava che il Polo Donato era convinto di vincere al primo turno. A questo lo dice Fiorita, io sto dicendo esattamente il contrario, ciò che ci si aspettava, che appunto non era facile, con sei candidati e con una proposta molto nuova, innovativa, certamente, che non parte dagli schieramenti e che come vedete anche voi, diciamo così, esperti, avete difficoltà in qualche misura a condividere nella sua esposizione. Come si proporrà al ballottaggio? Prego? Come si proporrà al ballottaggio? Esattamente come in primo turno, cioè mi rivolgerò agli elettori di qualunque schieramento politico che riterranno che questa proposta possa essere condivisa e sostenuta. Tallini ha detto che al ballottaggio ci sono due candidati di centrosinistra. Tallini ha detto un'altra cosa veramente, ha confermato quello che io dico da molto tempo, e cioè che Tallini e Fiorita insieme stanno combattendo per arrivare al ballottaggio e Tallini governerà il ballottaggio per Fiorita. Senta, professore, spera in un appoggio... Alerico ha confermato questo. Spera in un appoggio degli elettori di Vandaferro? Io spero nell'appoggio degli elettori di qualunque schieramento politico, certamente sì, perché no? Noi siamo soddisfatti del risultato che sta maturando, perché ovviamente il nostro obiettivo era quello di arrivare al ballottaggio, impedendo così al sistema di potere che si era raggrumato attorno a Valerio Donato di conseguire quella vittoria al primo turno che loro ritenevano scontata. Adesso Catanzaro ha 15 giorni di tempo per scegliere tra il cambiamento e la conservazione, lo ha detto a Lanza Nicola Fiorita del centro-sinistra al secondo posto con il 31,1% in base ai dati delle proiezioni tra i candidati a sindaco di Catanzaro. Diceva in una dichiarazione che ha appena reso pubblica qualche minuto fa ora Catanzaro ha 15 giorni di tempo per scegliere tra cambiamento e conservazione. Sì, direi commentiamo l'unico dato certo che abbiamo in questo momento a disposizione che è quello del ballottaggio. Era il nostro obiettivo, siamo partiti in una campagna elettorale che un sistema di potere che ha governato questa città per 20 anni dava per chiusa, in una partita che davano per vinta sicuramente al primo turno, come è stato ribadito anche nella chiusura della campagna elettorale del professore Donato. Sapevamo che la città non voleva questo, abbiamo lavorato molto perché non fosse così e siamo arrivati dove volevamo, a giocarci la partita al ballottaggio. Erano 10 liste contro 5, non hanno preso il doppio dei voti, nei prossimi 15 giorni siamo uno contro uno e ci giochiamo al massimo questi 15 giorni che aspettiamo da 5 anni. Professor, ma a proposito di liste, qualora le liste di Valerio Donato dovessero superare il 50%, mi sembra, se non probabile, certamente è possibile, si pone un problema, si vorrebbe in caso di valore storia un problema di governabilità. Questo lo vediamo quando i dati saranno definitivi, certo se le liste fossero sopra il 50% e il candidato a sindaco fosse sotto penso che sarebbe intanto una bocciatura per il loro candidato a sindaco. Con Antonello eravamo insieme 5 anni fa in un progetto di cambiamento, ci parleremo, ma noi ci rivolgeremo ai cittadini catanzaresi, a tutti i cittadini che vogliono cambiare, agli elettori di tutti gli altri candidati a sindaco, adesso vediamo come si compone anche il dato delle liste, insomma tutto. Intanto sappiamo che c'è il ballottaggio, era quello che volevamo, questo ci carica molto e poi tanto, insomma, qualche ora e sapremo esattamente tutto. Senta, lei diceva che il Polo Donato era convinto di farcelo al primo turno. Beh, lo ha detto il suo principale sponsor politico, il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso nella chiusura della campagna elettorale, ha detto vinciamo al primo turno, lo hanno ripetuto, è stato il mantra dell'inizio della campagna elettorale, erano convinti di aver messo su una coalizione che doveva vincere col 60%, non hanno fatto i conti con i cittadini catanzaresi e il risultato finale lo abbiamo tra 15 giorni. Riguardo alle nostre scelte in vista del ballottaggio, aspettiamo il dato definitivo e poi su questo ragioneremo. Un ragionamento che dovremo fare su base nazionale. A Catanzaro in particolare valuteremo l'eventualità di un sostegno da parte nostra sulla base di programmi e visione della città che sono battaglie storiche care a Fratelli d'Italia. In ogni caso va sottolineato che la nostra posizione è antitetica rispetto a quella delle PD e dei 5 Stelle. Così all'ansa la deputata di Fratelli d'Italia Vandaferro, candidata al sindaco di Catanzaro con il sostegno del suo partito. In linea con le aspettative mie e di Fratelli d'Italia innanzitutto, dei candidati rispetto ad una lista di uomini e donne giovanissimi, al 99% la prima esperienza e soprattutto insomma con quella volontà di rendere i cittadini un'alternativa che possa in qualche modo portare un valore aggiunto nel futuro Consiglio Comunale. Per quanto mi riguarda poi un risultato straordinario, consigliato che noi corriamo con una, il candidato donato con 10 liste, devo dire con il buon 90% dell'amministrazione Abramo uscente e poi abbiamo altri due candidati con 5 liste e sentivo anche la dichiarazione dell'Avvocato dalle Ico che diceva che c'erano sondaggi dove si poteva doppiare. Beh, la matematica sicuramente non è un'opinione, sarebbe stato sicuramente un miracolo, ma i miracoli li lasciamo ad altre cose. Noi abbiamo sostenuto fortemente l'idea di una città che voleva rinnovare in parte la sua classe dirigente ma soprattutto che avesse le idee chiave su quello che in qualche modo si voleva fare. Chiaramente pagate anche un po' scontate insomma il ritardo con il quale insomma vi siete poi candidati a questa campagna elettorale per le note vicende all'interno del centro d'aria. Il ritardo è solo dovuto ovviamente a tutto quello che è avvenuto in alcuni partiti in termini ovviamente di grandi dissidi interni che voi avete raccontato e mi riferisco ovviamente agli alleati di Forza Italia, mi riferisco ai tanti tavoli ufficiali e ufficiosi che non hanno mai visto sui nomi messi in campo da tutti una congiuntura rispetto all'ipotetica volontà di far sì che il candidato fosse realmente di centrodestra e fosse eletto ma soprattutto anche in parte ad una classe politica che ancora una volta insomma ha mediato rispetto secondo me ad altre esigenze. Oggi ovviamente io sono onorata di questo successo che ancora non può essere definito tale perché insomma stanno scrutinando ma che certamente insomma se c'è stata una scesa ritardata in campo è stato solo per la volontà di allargare e di non mettere sempre gli stessi volti e poi alla fine invece la scelta è ricaduta su di me per volontà dei candidati, per volontà di una classe dirigente ma soprattutto anche per amore da parte dei cittadini di questa città. Per lei tanti voti di opinione però è lecito chiederle se si aspettava anche un qualcosa in più? No sinceramente semmai qualcosina in meno, sono onesta e ribadisco in meno perché insomma non avevo scelto di corre rispetto a pacchetti di voti, rispetto a vecchie logiche, ho scelto veramente una corsa libera, un voto di libertà quindi ripeto soddisfatta nella sostanza e orgogliosa di averlo fatto, quindi nessuna recriminazione, nessun rimpianto, farei la stessa corsa con le stesse persone sapendo che quando poi si vince alla fine si deve anche garantire un governo, un governo stabile, di uguali intenti, di uguali progetti e di uguale visione. Se il centrodestra mi dice che abbandona mangialavori, senatore e coordinatore regionale di Forza Italia Calabria e alcuni personaggi e che non avranno alcun ruolo nell'esecutivo, tutto può succedere. Lo ha detto in una dichiarazione il candidato a sindaco Antonello Tallerico che le proiezioni danno al terzo posto come candidato a sindaco dopo Valerio Donato e Nicola Fiorita. Si sono fatte, ha aggiunto Tallerico, valutazioni personali, qualcuno si è garantito la candidatura alla Camera, qualche altro al Senato, non hanno fatto certamente l'interesse della città. Ci sono stati sei candidati a sindaco, tre dei quali espressione del centrodestra, uno che si definisce marchesista e che viene sostenuto dalla Lega, l'altro, Vandaferro, prestigiosa candidata, aveva rifiutato il sostegno interpartitico ed è stata costretta a candidarsi perché egli lo hanno imposto a livello nazionale. L'unica candidatura libera nel centrodestra era la mia. L'esperienza ci dice che bisogna attendere i dati reali prima di avventurarsi nelle solite dotte analisi politiche. Un dato però emerge dagli ex-Pol. La candidatura di Antonello Tallerico, sostenuta con convinzione da noi con l'Italia, ha rappresentato l'autentica novità di questa tornata elettorale e il consenso che è riuscito a raccogliere ha dimostrato che senza l'area moderata il centrodestra non vince. Lo afferma in una nota Domenico Tallini, responsabile regionale Enti Locali di Noi con l'Italia. Se non è bastato il 48% dei magistrati, ora che l'85% degli italiani non votando ha detto che evidentemente la separazione delle carriere non la vuole, né la valutazione dei magistrati da parte degli avvocati, basterà al governo per capire che questa riforma dell'ordinamento giudiziario non va bene, è la considerazione del procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri il giorno dopo il flop del referendum sulla giustizia che ha registrato una partecipazione del 20,9% dei votanti senza raggiungere il quorum. Tra i cinque quesiti proposti vi erano anche quello sulla separazione delle carriere dei magistrati tra funzioni giudicati e requirenti e la valutazione della professionalità dei magistrati da parte di avvocati. Il presidente della regione Calabria, Roberto Chiuto, ha effettuato un sopraluogo alle terme luigiane visitando le strutture insistenti nel comune di Guardia Piemontese. Entro fine mese l'Assemblea dei Soci di Sateca dovrà decidere se accettare l'offerta della regione formulata attraverso Fincalabra per l'acquisizione delle terme luigiane. L'obiettivo, ha affermato il presidente Chiuto durante il sopraluogo, è quello di riavviare la più presto alla stagione. Tutti i soggetti coinvolti stanno lavorando a questo progetto, sia l'azienda che gestisce le terme, la Sateca, sia i comuni che hanno concesso l'uso dell'acqua, sia la regione che si è resa disponibile a fare un fitto d'azienda con opzione per l'acquisto, cosa di cui deciderà la società nel corso della propria assemblea. In Calabria sono 364 i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore con un tasso di positività che sale dal 14,76% al 18,4%. Due le vittime, il totale dei decessi da inizio pandemia è 2.635. Negli ospedali ci sono 5 ricoverati in meno in area medica, totale 154, mentre restano stabili a 3 quelli in terapia intensiva. E di qualche giorno la notizia diffusa da Enea sull'esaurimento dei fondi stanziati dal governo per il super bonus, mentre l'esecutivo tace. Dei 33,5 miliardi stanziati ad oggi sono stati ammessi alle agevolazioni lavori per 33,7 miliardi. Questo vuol dire che occorrono misure urgenti da parte del governo per rifinanziare i bonus, altrimenti il settore edile andrà al collasso totale. A sostenerlo è Maria Elena Senese, segretaria generale Feneal Will Calabria. Un sistema, quello dei bonus, prosegue Senese, andato già prima in intilte, poi in paralisi, con le molteplici modifiche normative che si sono convulsamente succedute nei mesi precedenti. Non ritengo di dover intervenire sulla deliberazione del Consiglio di classe, ma certamente ho l'obbligo di non tacere sul fallimento del sistema scuola. Siamo all'ulteriore riprova che l'inclusione tanto decantata non è che una chimera per portatori di handicap. E' quanto dichiara il sociologo Antonio Marziale, presidente dell'Osservatorio sui diritti dei minori e già garante per l'infanzia dell'adolescenza della Regione Calabria, in relazione alla non ammissione di Benedetta studentessa non vedente agli esami di Stato in un istituto superiore nel Regino. Grazie. Grazie.